Telecamere e semafori in arrivo ai contasecondi per evitare le multe. L'assessore comunale Gianni Santilli, rispondendo a un'azione presentata in Consiglio Comunale dalle Forze di Opposizione, si è detto favorevole all'installazione dei contasecondi negli impianti semaforici dotati del sistema T-RED per venire incontro alle necessità degli automobilisti e contribuire a ridurre le sanzioni. Santilli ha dato incarico ai tecnici comunali di avviare tutte le procedure necessarie per l'installazione dei contasecondi e gli impianti semaforici. Nell'arco di due anni al massimo, ha sottolineato Santilli, i sei impianti semaforici regolati con il sistema T-RED presenti in città saranno dotati del contasecondi. Sicuramente abbiamo stabilito di andare incontro a tutti gli automobilisti, quindi dove ci sono sei semafori della città, dove ci sono il T-RED, noi attiveremo la procedura dei countdown, quindi possibilmente lo faremo dopo le direttive del Ministero che prevedono entro due anni di mettere questi countdown e dare la possibilità agli automobilisti di rendersi conto e quindi magari rallentare e frenare prima del semaforo. L'installazione dei contasecondi sarà utile per segnalare il tempo che intercorre fra il semaforo giallo e rosso, così da mettere gli automobilisti in condizione di valutare la sicurezza del transito ed evitare brusche frenate o infrazioni. In questo modo, ha sottolineato ancora Santilli, si dovrebbero evitare anche le multe che vengono elevate se i veicoli superano l'incrocio durante il passaggio dal giallo al rosso. Sui tempi di installazione Santilli ha affermato, infine, che l'articolo 7 del decreto 265 del 5 settembre del 2022 prevede che per gli impianti semaforici esistenti, nei casi di installazione obbligatoria, viene prevista l'attivazione dei dispositivi countdown entro due anni. Questi semafori T-LED sono stati messi per una questione soprattutto di sicurezza, ma sia per gli automobilisti ma anche per i pedoni. Quindi adesso stiamo rivedendo questa possibilità di installare questi countdown in modo da andare veramente incontro a tutti gli automobilisti.